Un percorso intrapreso lo scorso anno, quando la nostra città è stata unica tappa regionale del tour nazionale di Girolio e che adesso diventa un evento tutto made in Torre Maggiore. Olio e Contorni è un punto di partenza, una manifestazione a cui la nostra amministrazione comunale e il comitato organizzatore hanno lavorato allacremente in questi mesi e in cui crediamo fortemente, con l'ambizione di proporre un appuntamento che sia di eccellenza a livello provinciale, regionale e nazionale. E' quanto afferma il sindaco di Torre Maggiore, Pasquale Monteleone, in vista dell'appuntamento dedicato all'olio e all'oliva di Peranzana, alla valorizzazione del territorio e del patrimonio enogastronomico locale che si iterrà a Torre Maggiore da venerdì 26 a domenica 28 ottobre. L'evento è patrocinato dall'Associazione Nazionale Città dell'Olio, è stato cofinanziato dalla Regione Puglia ed è stato organizzato assieme all'Associazione e al Consorzio della Peranzana, alla Confcommercio, aziende agricole e attività commerciali locali. La manifestazione Torre Maggiorese sarà caratterizzata da un programma ricco di appuntamenti, che prevede mercatini e tour enogastronomici, eventi musicali, show cooking e laboratori di cucina, percorsi turistici da Castelfiorentino al Museo archeologico, giri turistici tra ristoranti e panifici, corsi di degustazione enogastronomica, corsi sull'olio Evo, concorsi che premieranno il miglior albero di ulivo di Peranzana e la miglior etichetta, incontri e seminari. Due, infine, i grandi eventi che caratterizzeranno la manifestazione. Gene Gnocchi in sconcerto rock, sabato 27 ottobre alle 21 in Piazza Mazzini e Federica Carta domenica 28 ottobre alle 21 in Piazza De Sangro, presso il Castello Ducale della città dell'Alto Tavoliere. Vogliamo insistere sulla strada tracciata di dare valore alla nostra agricoltura, poiché è nostra volontà quella di rendere stabile nel tempo questa intuizione felice dell'amministrazione comunale, conclude il primo cittadino.